Con il regista Gianfranco Pannone a commentare la chiusura di questo festival del cortometraggio una bella cornice, una bella affluenza di pubblico, anche un buon livello di lavori ecco il suo giudizio in particolare sulla complessiva dei lavori Io conosco il festival del cortometraggio da anni, ho fatto parte anche 3-4 anni fa di una giuria quest'anno devo essere onesto non ho visto i cortometraggi però mi dicono che c'è roba molto interessante D'altro canto non può non essere così perché insomma da un po' di anni sui cortometraggi ma anche sul cinema documentario insomma qualcosa si è mosso in Italia il cortometraggio è sempre stato considerato una palestra per i più giovani però è anche un modo di espressione cinematografico, corrisponde un po' alla novella e quindi succede molto spesso che il giovane non faccia solo il corto per arrivare a lungo ma che ci sia anche il gusto di fare il cortometraggio e questo secondo me è importante perché ovviamente il cortometraggio non è più solo qualcosa di passaggio ma diventa già un mezzo per affermarsi e per raccontare il proprio mondo Per chi ha raccontato la nostra città con un famosissimo documentario che le ricorderanno sempre che Latina Littoria ha vinto premi importanti e ha fatto una fotografia della nostra città come rientrerebbe un'attività di questo tipo così apparentemente anomala nel contesto di quella città che ci ha raccontato un po' burrascosa, un po' difficoltosa? Io dico sempre che in realtà Latina negli ultimi anni è cresciuta, è cresciuta molto io appunto ci sono tornato abbastanza spesso recentemente perché un anno fa ho realizzato Scori in Libertà che è il terzo capitolo che ho dedicato appunto alla città dove sono cresciuto e appunto frequentandola appunto girando questo film documentario ho visto che c'è molta più vivacità, per esempio del mondo giovanile per quanto riguarda la musica, il cinema, il teatro, esistono realtà che insomma 15 anni fa erano abbastanza impensabili e ancora di più 25 anni fa quando io abitavo in questa città un tempo si andava via perché non c'era internet, non c'erano i mezzi leggeri per cui il cinema era Roma oppure era Parigi o qualche grande città d'Europa Un modo più impegnativo è che oggi il cinema lo si può fare anche in casa, i mezzi sono più leggeri internet ti permette di comunicare con tutto il mondo e quindi probabilmente oggi un giovane sente meno il bisogno di andarsene dalla provincia questo secondo me è un bene perché io sono sempre stato un po' contro la Roma-centricità e la Milano-centricità, cioè io ritengo che l'Italia ha una fortuna che non hanno gli altri paesi pensiamo alla Francia e pensiamo che la Francia ruota tutto intorno a Parigi l'Italia no, l'Italia ruota su almeno 7-8 grandi città e su una provincia assai vitale e quindi se un giovane oggi rimane nella propria città a fare il regista, a fare attività culturale a fare teatro, a fare arte, io lo considero un gran bene e mi capita anche da insegnante di cinema di dire ai ragazzi del Damso, del centro sperimentale che se tornano in provincia non devono considerare uno di minuzio che un tempo questo poteva avere una sua giustificazione io appunto sono scappato anche un po' da Latina per bene poi Roma si ha due passi ma come tanti giovani degli anni 80, dei primi anni 80 oggi tutto questo non ha più ragione di essere diciamo quasi un consiglio spontaneo per i più giovani di raccontare i propri territori in una maniera come si potrebbe raccontare una grande epopea sì, sì, bisogna cominciare, allora io dico molto spesso ai ragazzi che fanno documentario diciamo quello che pratico di più, diciamo la forma cinema di caffè che pratico di più dice va bene, vuoi andare in Mongolia, vai in Mongolia però va benissimo ma se non hai soldi perché molto spesso non si hanno soldi e comunque se sei curioso raccontami anche il bar sotto casa l'altro canto non è che l'ho inventato io questa formula lo diceva un signore si chiama Zavattini Cesare Zavattini diceva andate nei tram raccontate il mondo vedendolo di persona non delegatelo solo alla parola scritta e quindi in qualche modo faceva un discorso contro il cinema fatto a tavolino allora si cominci dal bar sotto casa e si arrivi fino in Mongolia questo secondo me è quello che va fatto un ottimismo fuori dalla linea perché c'è sempre un po' da lamentarsi un po' un invito al Glocal un ottimismo della volontà diceva un signore che si chiama Gramsci un ottimismo della volontà un po' un richiamo al Glocal per i giovani cineasti e noi ringraziamo Gianfranco Pannone e proseguiamo il nostro viaggio al Festival Pontino del cortometraggio grazie grazie a voi